Non hai messo troppo trucco e non hai un vestito troppo corto. Il tuo lavoro non è mai scontato e poi non è vero che è solo nervoso. Se la violenza non si vede non vuol dire che non ci sia. La violenza psicologica non è meno grave di quella fisica e va combattuta allo stesso modo, sempre. Io Lotto, l'iniziativa promossa dal Comune di Napoli, dà un aiuto concreto a tutte le donne che si sentono vittime di relazioni tossiche. L'obiettivo è quello di sensibilizzare tutte le donne vittime di ogni tipo di violenza a denunciare. Chiedere aiuto non è un segno di debolezza, anzi insieme possiamo fare di più. Non aspettare. Chiama il 1522. Grazie a tutti.